Dopo l'app che consentiva di investire i cafoni, gli appassionati di giochi su iPhone ed Android possono divertirsi con un altro titolo, Hero Run, dedicato al governatore Delucca, che ovviamente ricorda il presidente della giunta regionale della campagna De Luca. L'obiettivo del nuovo applicativo, già scaricabile sull'App Store dell'Apple e sul Play Store di Google, è quello di riportare l'ordine nelle città armati del famoso lanciafiamma di De Luca, invocato per le feste di laurea. A idearlo due salernitani, Simone Pirozzi e Geraldo Salvati. Il gioco si chiama Hero Run e come protagonista proprio De Luca, con il suo lanciafiamme che gira per la città e va a incendiare le persone per strada, quelle persone che non si fregano del problema e delle restrizioni date dal governo e quindi lui, per combattere questa sorta di pandemia, gira per la città con il lanciafiamme. Abbiamo avuto subito un sacco di successo, diciamo, ora abbiamo quasi mille download del gioco, però la cosa più bella è che sono arrivati un sacco di complimenti da un sacco di sviluppatori, da un sacco di persone, ma secondo me quello che ci ha dato più gratitudine è il commento che ci ha fatto un ragazzo di 14 anni, dove ha detto, visto che il suo sogno era lo sviluppatore di giochi ci vedeva come delle fonti di ispirazione e vedere il gioco che sta avendo questo successo gli dava della forza in più per continuare il suo sogno e quindi ci ha dato una grande forza e ci ha spinto ancora a sviluppare il gioco, infatti stiamo facendo sempre delle nuove innovazioni, ora vogliamo inserire anche diversi altri personaggi, aggiungere il lungomare di Salerno, il mergellina, aggiungere altri luoghi e ci stiamo divertendo anche in questo. Ovviamente abbiamo avuto anche molti problemi nello sviluppare questo gioco, innanzitutto il problema più grande è dovuto alle restrizioni che ci hanno dato Google e Apple, perché in questo periodo ci hanno negato lo sviluppo di giochi e di applicazioni sul coronavirus, quindi noi questa cosa non la sapevamo, quindi avevamo immaginato tutto il gioco dove il nostro principale protagonista, quindi De Luca, doveva andare a spostarsi a destra e a sinistra andando a schivare, oltre a uccidere le persone con il lanciafiamme doveva schivare il virus, però una volta che abbiamo lanciato l'applicazione, quando abbiamo chiesto la pubblicazione dell'applicazione ci è stata negata, proprio perché parlava del coronavirus, quindi abbiamo dovuto rinventare il target, infatti si parla di un'invasione aliena e quindi il protagonista deve schivare gli alieni e uccidere le persone incendiandole e quindi abbiamo superato questa sorta di problema in questo modo.